Cofondatore del gruppo. Aveva 70 anni. Alle 21.00 di questa sera purtroppo Giovanni ci ha lasciato. I nostri pensieri e i nostri cuori sono pieni di dolore. Vogliamo ricordarlo con il suo sorriso e la voglia di fare musica per farci e farvi divertire. Ciao Giovanni. Con queste poche righe e l'icona di un cuore spezzato, pubblicate sui social ufficiali della band, gli stadio hanno annunciato la morte di Giovanni Pezzoli, batterista e cofondatore del gruppo con Gaetano Curreri, Marco Nanni, Ricky Portera e Fabio Liberatori nella primavera del 1981. Giovanni Pezzoli. Bolognese. Aveva 70 anni ed era stato colpito da un grave malore nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2016, mentre era in vacanza in montagna, proprio poche settimane dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano, Un giorno mi dirai? E pochi giorni dopo l'avvio del Miss Nostalgia Tour. Era tornato sul palco. Solo per pochi minuti e proprio per suonare quel brano. Nell'agosto successivo, ho l'arena della regina di Cattolica, Rimini, presentato da un emozionato e commosso Gaetano Curreri e accompagnato da un'ovazione. A giugno dello scorso anno, però, Pezzoli era stato di nuovo ricoverato in ospedale per accertamenti e negli ultimi tempi l'entourage del gruppo aveva rivelato l'aggravarsi delle sue condizioni.